La Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti di Firenze festeggia 100 anni e per l'occasione presenta un variegato panorama di eventi che prende avvio con una mostra dedicata al pittore e esploratore inglese Arnold Henry Savasch Landor. L'esposizione propone un nucleo di 40 opere che documentano l'intera esperienza dell'artista nel suo fecondo giro vagare per il mondo narrando per immagini, usi e costumi di quei popoli lontani.